ma quanto è bella si questo è vero ti ricordi perché non l'avevo mai fatta no c'è tipo un sacco di gente davanti a noi che esulta quando passano delle auto lussuose e non capisco quale star ci sia se c'è Brian svengo infatti speriamo sia Brian speriamo sia Brian ma chi è? io non so chi sto filmando abbiamo appena filmato l'auto in cui sono passati i Queen e noi stavamo dicendo ma chi è che c'è dentro boh e ovviamente non li abbiamo visti ma c'erano dentro i Queen oddio che bella che bella che bella vai 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 adesso siamo tornati un attimo in stanza perché io e la Francia lavavamo veramente morte e volevamo cambiarci ci laviamo e andiamo dirette al concerto tra l'altro mi metterò questa maglietta che è tipo di anni fa me l'aveva regalata mio fratello apposta per un possibile concerto dei Queen quindi la maglietta mi sta un po' stretta però non posso non metterla cioè è l'occasione perfetta è proprio l'occasione perfetta ah ma c'è pure Netflix cosa? c'è già una scaletta pubblica in realtà la scaletta ufficiale non c'è c'è tipo una previsione delle canzoni che faranno in base agli altri concerti che hanno già fatto c'è un po' di gente la navetta un po' tanta abbiamo fatto la sauna sulla navetta vero Fran? un po' di gente alla fine ieri sera siamo tornate in stanza più o meno a mezzanotte e mezza andiamo in stazione mangiamo qualcosa e prendiamo il pullman e torniamo a casa buongiorno Bologna allora stiamo andando a cercare la colazione quali sono le tue impressioni sul concerto di ieri? bellissimo bellissimo no ragazzi è stato veramente stupido dovevamo farlo era la nostra band e dovevamo stare lì insieme a piangere e saltare non so è riduttivo però non so come scrivo emotivamente è stato bellissimo bellissimo ma sti cazzo mi parla stai zitto anche trovarsi là a volte ad avere proprio gli stessi slanci fisici di quelli che ti stavano accanto ti sentivi è vero è vero che ti spinto niente con quell'intorno cioè che sentivi il bisogno di allungare il plush esatto esatto lo allungava canti a squarciagola infatti appunto la voce è abbastanza mancante ok cerchiamo un bar tigelle anche a colazione tigelle nutellose buongiorno Chiorellino buongiorno e questa è stata la nostra gita a Bologna siamo autorate con 40 minuti di ritardo a Milano perché c'era un po' di traffico sull'autostrada ma alla fine a malincuore siamo tornate a casa anche se ho potuto vederla soltanto per un giorno mi è rimasta nel cuore la gentilezza e l'allegria dei bolognesi il loro accento così simpatico e soprattutto il cibo che è veramente una favola e ovviamente mi è rimasto nel cuore anche lo stupendo concerto dei Queen di Casalecchio di Reno spero che questo video sia stato utile per l'apprendimento dell'italiano grazie ancora una volta per essere rimasti fino alla fine e alla prossima matanè ciao a tutti